bella ragazzi bella ragazzi come avete visto abbiamo ricevuto da jcpcb questi pezzi meccanici che praticamente erano le due guancette per un coltello ci hanno detto che giustamente non gli piacciono le armi per cui li abbiamo un po modificati e quindi cosa abbiamo fatto praticamente abbiamo ripreso il disegno di questi pezzi e siamo riusciti a modificarli vedete che erano fatti così in modo da poter entrare coi perni e fissarli lasciando questa questa estetica qui coi perni laterali e abbiamo fatto poi anche le chiavi per poterli stringere e eventualmente fare manutenzione a questo che era un coltello ma adesso vedrete come lo modificheremo meccanicamente diventerà un'altra cosa ok questo cercando in mezzo ai miei scarti e profilati di alluminio la cosa che potrebbe essere ideale questo piatto qua forse sì ma direi più questo gli diamo una misurata direi che va benissimo è lui è lui è lui ecco i nostri manici saranno ex manici di coltello tra un po' ho pensato di lavorarli così di mettere una punta da trapano visto che sono fuori da tre e in modo da poterla poi appoggiare sulla morsa quindi una punta di qua resteranno perfettamente accoppiati con tutti i boli pari sì un pezzo di carta giusto che non si segni l'alluminio ma poi mi sono ricordato sai che cosa che l'avevamo fatti in ergal è vero questi qua e sì quindi sulla sulla morsa piatta della della morsa della fresa non si sarebbero neanche segnati sì sì è durissimo con i materiali certo come l'alluminio abbiamo una bella fresa da sgrosso da in acciaio al cobalto da 14 prendiamo la misura e poi partiamo con una bella fresata e vai di fresa forte questa inquadratura perché sembra quasi una cnc che lavora invece ci sono io che sto girando le manette a tutto andare il piano è da portare al piano più basso lo vediamo da un'altra inquadratura quello che succede sul metallo e se sono tutte passate da un millimetro ma con una fresa così cattiva avrei potuto anche darci di più la 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 fresa è bellissima è uno strumento una trezza una trezzatura veramente utilissima il tornio è utilissimo la fresa permette di fare lavorazioni sulle cose non rotonde eh lo so che me la invidi un pochino eh sì io ce l'ho questa qui è una bf 20 vario e quanto pesa c'è la tua fresa? la mia pesa mi sembra qualcosa come 240 kg sono sono tre pezzi da da smontare viene via la torretta il basamento che è insollevabile anche solo basamento e poi c'è questa testa qui che si smonta anche lei dalla dalla colonna infatti per fare il trasloco ho dovuto poi smontarla completamente sì ecco qua il pezzo pronto sembra un pezzo unico quando ho preso i due pezzi insieme contemporaneamente sì sì intravedi in certi punti in certi momenti il taglio ma è una cosa la divisione ma è veramente quasi intercettibile sì ovviamente ho dovuto togliere anche il fianco perché eh questa era la parte dell'impugnatura della lama quindi qui lo facciamo dritto ora iniziamo la fresatura sul profilato è una lavorazione un po' particolare un po' delicata di solito questo pezzo bisognava fissarlo diciamo in un altro modo perché perché quando poi andremo a passare dalla parte opposta la questo pezzo potrebbe tendere a stringersi un pochino e quindi andare a pinzare la la fresa e scappare via però me lo sono potuto permettere perché avevo questa fresa nuova che poi sono andato con una certa cautela questa è una fresa da quattro millimetri come i perni che abbiamo fatto fare da gs pcb praticamente dentro questa asola passeranno i perni di ottone ci ha costruito gs pc pc questa è la passata di finitura della scanalatura e quindi abbiamo qui i nostri bei pezzi lavorati e per risparmiare un pochino perché poi gs pcb fa ogni tipo di lavorazione da lavorazioni di finissime di precisione se volete il pezzo rozzo costa meno se volete il pezzo non filettato costa ancora meno diciamo che è pratico perché alla fine un maschio e una filiera ce l'abbiamo tutti e si possono anche usare dei trucchetti il trucchetto qual è? praticamente queste chiavi qui io le ho fatte disegnare con il foro per cui se vogliamo filettare questa boccola che è ancora vergine la incastriamo sulla chiave e semplicemente tenendola ferma con una chiave anche questa l'ho fatta da 13 per poterla tenere ferma con una chiave riusciamo a filettarla dritta così è comodissima la chiave stessa è da guida al maschio e quindi sappiamo di farlo dritto addirittura possiamo anche costruirci farci costruire un pezzo così se abbiamo tantissimi pezzi da filettare proprio come utensile ok siamo passati e quindi adesso abbiamo le due viti le due boccole le togliamo un po' di bava che abbiamo creato con la filettatura e questa si avvita perfettamente in che cosa abbiamo deciso di trasformarla? in questa qui che è una falsa squadra praticamente ma è una falsa squadra un po' particolare perché noi siamo abituati a vederla con l'angolo a 45 gradi di qua e c'è un pezzo molto più lungo e non c'è un altro pezzo questa qui praticamente l'abbiamo studiata come falsa squadra barra truschino fa due funzioni esatto e la cosa bella è che le fa contemporaneamente quindi siamo riusciti praticamente a riciclare il tutto e a riutilizzarla per costruire questo strumento procediamo al montaggio quindi mettiamo ah no questa è quella da filettare le due viti guardate che bello poi queste scanalature qui le avevamo appunto fatte anche qua c'è una piccola scanalatura per metterci delle resine colorate e dare ancora un'estetica in più al pezzo per ottenere un preventivo gratuito dalla piattaforma di GSC3DP basterà cliccare su lavorazione CNC caricare il vostro modello 3D in questo caso è un file step dopo qualche secondo vi apparirà un'anteprima ed è anche possibile cliccandoci sopra vederne una visualizzazione in 3D eccolo qui e a questo punto si sceglie il materiale ci sono leghe di alluminio fra cui anche l'ergal leghe di rame dove c'è anche l'ottone e tutta una serie di materiali plastici molto interessanti poi abbiamo il tipo di finitura che può essere grezzo come lavorato oppure possiamo decidere di farlo anodizzare ad esempio o pallinare o fare altri tipi di lavorazione anche lucidarlo a specchio abbiamo qui la possibilità di scegliere la tolleranza fino a 5 centesimi di millimetro la rugosità possiamo aggiungere qui un disegno tecnico con le quotature e altre cose particolari ricordatevi sempre di mettere la descrizione del prodotto perché poi da qui ci sono altre opzioni che potete scegliere e a questo punto in fondo se volete potete anche aggiungere un commento o una descrizione personale ad esempio non sabbiare l'interno del foro fatto questo basta semplicemente cliccare su richiedi un preventivo e entrare con il vostro account di jlc3dp mettiamo le nostre due guide l'altro pezzo e le boccoline perfetto c'è una una precisione pazzesca troviamo ancora la chiavetta adesso avviti l'altra appoggio sì una cosa importante vedete il filetto che spunta è lungo eh sì perché era andato per la lama del coltello che era bella spessa eh qui volendo poi si possono anche spagliare a filo ecco allora questa in cui si possono fare linee parallele e allora facciamo così poi vediamo l'utilizzo che avevo pensato con la chiave stringiamo qui facciamo un angolo ad esempio così e stringiamo anche dall'altra parte a questo punto zacchete abbiamo la nostra squadra che ha un angolo regolabile se vogliamo fare 45 o se vogliamo andare a copiare un angolo su qualche cosa e la parte truschino ah ecco altra cosa la falsa squadra di solito poi diventa instabile quando non c'è questo pezzo qua che non c'è mai ok perché una volta appoggiato il pezzo poi fa questo lavoro qui invece con questo esatto fa da appoggio è bellissimo e comodissimo poi qui gli ho fatto un foro da un millimetro e mezzo e un foro da due perché questo poi si riesce è tanto corto e con la guida che si può girare dall'altra parte e se abbiamo delle matite con una punta più grande o più piccola si può utilizzare e poi possiamo usarla appunto come truschino adesso l'ho rotta perché mi serviva l'altra mano era molto affilata si si possiamo appunto usarla come truschino oppure appunto per tracciare gli angoli che vogliamo è una soluzione molto carina simpatica più avanzata rispetto alle classiche un po' una forzatura la cosa bella appunto dei pezzi lavorati a CNC è che noi non ci saremmo mai messi a fare una lavorazione del genere perché è veramente difficilissimo cioè questa è una cosa che per assurdo si può fare anche al tornio spostando il pezzo facendo una sesta facendo con un piccolo utensile tutti questi queste escrescenze non so neanche io come chiamarle il metallo era pieno fino all'altezza di questi viene tolto tutto intorno creando un altro piano più basso lasciando giustamente questi perni e quindi niente con la lavorazione CNC ci da la possibilità di creare qualsiasi cosa proprio a fantasia altra cosa normalmente nella progettazione di pezzi meccanici che cosa succede il progettista deve essere talmente tanto bravo da utilizzare le misure dei pezzi già esistenti ad esempio una barra esagonale da 12 piuttosto che un piattino da 4 mm o materiali già esistenti o addirittura se ci sono delle viti hanno delle lunghezze standard quindi esiste il 6x20 il 6x25 con la lavorazione CNC possiamo personalizzare qualsiasi cosa basta fare il disegno se addirittura vogliamo una piccola rotondatura su un pezzo basta disegnarla non occorre che gli diciamo che gli facciamo il disegno con tutti con tutte le quotature eccetera eccetera basta dargli il disegno in formato step e loro lo riproducono fedelmente qua sono partiti da chissà quale pezzo e questo l'esagono l'hanno fatto proprio lavorando con la fresata di CNC con le facce precisissime ho lavorato da ingegnere immaginando che avrebbero utilizzato una barra esagonale da 13 e invece no sono partiti probabilmente da una barra tonda l'avrebbero usata nel caso avessero dovuto fare una grossa produzione eh sì gli abbatteva i costi avrebbero comprato il materiale adatto cioè barra di quella esagonale ho aggiunto questo bruttissimo spago così te lo puoi appendere al polso anche al collo o a qualcosa la cintura qualcos'altro come vuoi e per chi fosse interessato a questo tipo di lavorazioni meccaniche che lasceremo nella descrizione del video qui sotto quindi basterà cliccare sulla parola altro e si aprirà la descrizione del video metteremo un link che comprende anche praticamente lo sconto dedicato agli iscritti che arrivano da Chaos per cui potrete usufruire anche di questo vantaggio e per il futuro avremo sicuramente altri progetti meccanici da fare con JLCPCB so già cosa fare ecco qui abbiamo come avete visto un motore a scoppio che ha mille modifiche da fare da poter fare, da trasformare in qualsiasi cosa chissà se diventerà un gruppo elettrogeno una macchina che si arrampica sui muri non lo sapremo ancora e quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale così potrete avere tutti questi aggiornamenti e mettete un like se vi è piaciuto questo video e se ne volete degli altri e con questo vi salutiamo bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi bella ragazzi Grazie a tutti.